Definito il programma della festa patronale di Andria che si svolgerà in città dal 16 al 18 settembre, un tabellone al quale si è giunti in ritardo, come ammesso dalla stessa sindaca Giovanna Bruno in conferenza stampa Palazzo di Città questa mattina, e non senza qualche polemica. Ma ora ci siamo, gli andriesi, vivranno la festa dei Santi Patroni tra riti religiosi, fiera commerciale in Corso Cavour, luminarie, Luna Park, in zona via Martiri di Belfiore ed altre iniziative come lo spettacolo di Acqua e Luci delle Fontane Danzanti, la Parata Circense, la banda musicale per le vie del centro e la novità dell'animazione artistica nella mattinata del mercato settimanale del lunedì. Sarà bella, sarà coinvolgente, sarà comunitaria, è il frutto della interazione davvero con le associazioni, con i privati, con gli imprenditori che ancora una volta hanno sostenuto la causa. Per noi organizzare la festa patronale non è una cosa scontata e non è facile, è una delle cose paradossalmente più complesse, perché purtroppo abbiamo vincoli di bilancio, perché non abbiamo risorse disponibili da poter impiegare, quindi ogni volta bisogna fare un percorso ad ostacoli per mettere insieme tante caselle. Tra i temi caldi, il nome dell'artista dell'ultima serata della festa. Alla fine sarà Roy Paci, l'ospite che animerà il lunedì sera in Piazza Catuma, accompagnato dalla band Aretusca. La serata finale in Piazza Catuma sarà a cura di Roy Paci e Aretusca. Un bel concerto, la festa si incentra soprattutto sul recupero della centralità di Piazza Catuma, che è la Piazza degli Andriesi e la Piazza degli Incontri. Ritorna anche con dei costi molto più contenuti rispetto a quelli che erano stati i costi preventivamente immaginati e ritorna nella condivisione di un po' tutte le varie sensibilità. Una festa di comunità, di condivisione, ha ribadito il primo cittadino andriese, secondo cui la festa dei Santi Patroni di Andria deve tornare ad essere patrimonio della città. Io lo dico sempre di più e lo farò fino alla fine del mandato, la festa patronale deve diventare nuovamente il patrimonio della città. Tutti in qualunque forma devono collaborare perché è giusto che sia così, proprio perché è un momento molto sentito e allora più si collabora e più ovviamente anche nei festeggiamenti si può osare.